L'onorevole Renato Brunetta sarà domani a Teramo alle 18 in municipio? Sì, domani Brunetta sarà a Teramo in visita istituzionale. Io quando sono stato a Roma, nelle varie audizioni, avevo chiesto a tutti i parlamentari, non abruzzesi, non terramani, ovviamente di venire a vedere, a verificare, davvero a toccare con mano la situazione difficile che viviamo a Teramo. Siamo arrivati a circa 3.500 sfollati, quindi una situazione davvero difficile. E sono contento che proprio l'onorevole Brunetta, nella giornata di ieri, mi ha comunicato che domani alle ore 18 sarà a Teramo. Quindi sarà l'occasione per far vedere la situazione della nostra città, la situazione delle nostre case, dei tanti palazzi purtroppo dichiarati inagibili, sarà l'occasione per farli verificare e toccare con mano le frane, il dissesto idrogeologico che viviamo, sarà anche l'occasione per farli incontrare con i sindaci, alcuni sindaci che sono quelli più interessati direttamente al decreto, perché poi l'obiettivo è quello di far sì che tutti i parlamentari, in particolare l'onorevole Brunetta, possano in qualche modo dare il proprio contributo fattivo, perché lunedì il decreto verrà postato in discussione alla Camera. Intanto lei le problematiche di questo territorio le porterà anche al Parlamento europeo il 21 e il 22 marzo, in occasione delle celebrazioni del sessantesimo anniversario dell'Unione Europea, lei rappresenterà l'Abruzzo. Sì, questo è davvero un grande onore per me, io ringrazio il Presidente Tajani che ha scelto il sottoscritto per andare a rappresentare la Regione Abruzzo, per andare a rappresentare questo territorio, questo territorio in ginocchio e quindi sarà un'ulteriore occasione il 21 e il 22 di far capire anche l'Europa che anche l'Europa deve fare la sua parte. Io ieri sera alle 11 e mezza ho sentito l'onorevole Tancredi, ieri si discuteva anche all'incommissione, si discutevano degli emendamenti, mi sembra che qualche spiraglio si sta aprendo, per esempio quello sui danni indiretti, ci saranno i danni del riconoscimento dei danni indiretti, ci sarà il riconoscimento anche per i danni della neve, insomma qualcosina si sta muovendo, vedremo se questo è sufficiente, se noi lo riterremo sufficiente, altrimenti come ho già detto saremo pronti a far sentire nuovamente la nostra voce, quindi attendiamo di vedere come questo decreto entrerà alla Camera, credo che stasera a tarda notte si voterà poi in commissione, il decreto in qualche modo sarà confezionato e poi andrà alla discussione della Camera, dove comunque si potranno fare poi ulteriori emendamenti, quindi siamo pronti, attenti, verificheremo giorno per giorno quello che sta accadendo, sto sul pezzo e non ho intenzione di mollare.